Ho imparato a rigirare i pancake molto bene adesso! È fantastico! Ti guarderò dalla sala da pranzo con i gemelli! Ok! Guardate qua! Ha! Sei magnifica, Freya! Papà, sono stata brava! Scusa, i bambini stavano piangendo. Puoi farlo di nuovo? Guardami però questa volta, ok? Sicuramente! Bene! Sei fantastica, Freya! Papà! Scusa, scusa! Avevano bussato alla porta! Oh! Va bene! Papà! State seduti voi due! Voglio che tu mi veda, papà! Questo è l'ultimo, ok? Andiamo! Oh no! Ho messo troppa forza! Bella presa! Freya, sei davvero brava a preparare i pancake, sai? Ok ragazzi, facciamo merenda!